ma suona meglio un diffusor audio a due vie o un diffusor audio a tre vie ma la risposta è la solita antipatica banale che nessuno vorrebbe sentirsi dire soprattutto quando vuole una risposta definitiva da sciorinare magari con gli amici questa risposta antipatica dipende utente smaliziato sa che in effetti la risposta dipende dall'utilizzo che vogliamo fare del nostro diffusore ma questa domanda è comunque l'occasione per poter scambiare quattro chiacchiere sul mondo di diffusore multi via due vie tre via quattro vie compagnia bella molti di voi sicuramente già sapranno che la sorgente audio ideale sarebbe la sorgente puntiforme cioè che per ogni canale ci sia solo un punto un singolo punto da cui proviene l'emissione sonora perché la sorgente puntiforme sarebbe la soluzione definitiva proprio perché è puntiforme quindi due caratteristiche molto importanti la prima che è una sola o per canale quindi le onde sonore che arrivano ai nostri orecchi vengono prodotte da un unico punto non da due o tre punti che contemporaneamente emettono verso le mie orecchie si avrebbe un po l'effetto che si aveva non so se vi ricordate tempo fa quando esistevano i proiettori multitubo a tre tubi di cui uno emetteva rosso nel verde o nel blu che per ottenere una visione efficiente ad alta fedeltà di riproduzione dovevano sperare di avere i tre tubi perfettamente tarati fra di loro in modo che mettessero la stessa quantità di rosso di verde di blu e soprattutto che andavano tarati con estrema difficoltà nel mettere esattamente in coincidenza le emissioni dei tre tubi bisognava tarare un reticolo per cui siete eravamo col cacciavettine i due colori fra di loro esattamente in un punto si staravano dall'altra parte se li taravamo dall'altra parte si staravano dalla parte precedente ecco perché una sorgente puntiforme intrinsecamente superiore hanno una sorgente multivia due tre quattro via che sia l'altro motivo per cui la sorgente puntiforme è intrinsecamente superiore proprio perché è un punto quindi non è una superficie più o meno larga il suono arriva da un punto unico evitando i problemi che derivano dall'emissione da altoparlanti comunque grossi che emettono frequenze diverse a seconda della superficie dell'altoparlante ma questo di questo magari accenneremo più tardi beh una brutta notizia la sorgente puntiforme non esiste commercialmente non esiste e qui aprirei una parentesi che riguarda la tecnologia dell'audio a quale noi tutti siamo così affezionati se in tanti ambiti della scienza la tecnologia ha fatto passi in avanti da gigante negli ultimi anni pensiamo alla tecnologia dei computer per dei telefonini dell'automotive nel campo del riproduzione audio in particolare in quella i diffusori non ci sono stati sostanziali evoluzioni negli ultimi ma nell'ultimo mezzo secolo è vero il digitale è stato un grosso passo avanti l'amplificazione in classe d è stato un grande passo avanti ma nel campo della diffusione sonora cioè dei diffusori proprio siamo ancora agli anni 60 cioè siamo ancora legati agli altoparlanti a base di magnete bobina e superficie radiante piccolo grande che sia penso che a tutti sia intuitivo che un solo altoparlante anche se non puntiforme anche sempre più grosso non sia sufficiente per emettere tutto lo spettro della banda audio che a noi interessa un altoparlante grosso e pesante non potrà mai riprodurre le alte frequenze e un twitterino grosso così non potrà emettere delle basse frequenze ma l'ingegno umano già da tanto tempo ha inventato vari tipi di altoparlanti il woofer e il twitter il woofer quel padellotto più o meno grosso deputato alle basse frequenze e twitter quei piccoli occhiolini in seta trattata o in altri materiali che invece sono deputati alle alte frequenze il twitter sarà tanto più bravo tanto più efficiente tanto più efficace nel fare altre frequenze tanto più e piccolo leggero e veloce nel muoversi deve muoversi fino a 20.000 volte al secondo per poter fare i 20 miners e un woofer sarà tanto più abile nel riprodurre le frequenze man mano più basse tanto più sarà grosso pesante cedevole e adatto appunto alle frequenze medio basse ed ecco perché sono nati perché esistono i diffusori a due vie dove abbiamo woofer twitter e un crossover purtroppo perché questo dovrebbe una delle parti più delicate dei diffusori che dividono la bandiaudo in due zone una dedicata al woofer una dedicata al twitter e qui cominciano a nascere problemi un woofer abbiamo detto che per poter emettere frequenze sempre più basse deve essere grosso pesante e cedevole e ovviamente un padellotto grosso così difficilmente riuscirà a produrre i 3.000 4.000 hertz cioè la frequenza di taglio di solito adottata nei due vie altrettanto sarà difficile per un twitterino grosso così muoversi con un'energia tale da muovere aree in modo da riprodurre frequenze man mano sempre più basse cioè verso il limite basso del suo campo di azione e questo è evidentemente un limite per il diffusore 2v ma ce n'è uno ancora più importante in un diffusore 2v il taglio è appunto posizionato nella zona delle medie frequenze così importanti per la riproduzione audio perché è proprio la zona dove si concentrano le frequenze fondamentali della voce del pianoforte del violino di tutti gli strumenti è proprio nella zona media che ci sono tutte le armoniche fondamentali di quello che andiamo ad ascoltare e queste frequenze medie vengono riprodotte proprio in virtù del taglio effettuato alla crossover contemporaneamente sia dal woofer che dal twitter quindi avremo tutte quelle frequenze nella zona incrocio cioè quella zona dove dove la banda audio viene tagliata per essere divisa tra twitter e woofer che viene messa contemporaneamente dai due altoparlanti e non è certo una condizione favorevole il fatto che una frequenza venga riprodotta contemporaneamente da due elementi audio separati e divisi fra di loro e allora come la mettiamo ma la mettiamo che fortunatamente l'ingegno umano oltre che il twitter e al woofer ha messo a punto negli anni anche mid range che come dice il nome sono gli altoparlanti di dimensioni guarda un po medie rispetto al woofer e al twitter spesso a cupola specializzate nel riproduzione delle frequenze medie ed ecco quindi la presenza degli altoparlanti a tre vie che a questo punto sembrerebbero essere sicuramente meglio dei due vie quindi sembrerebbe che i diffusori a tre vie siano intrinsecamente superiori agli altoparlanti a due vie beh ma non è esattamente così anzi spesso è tutt'altro in un diffusore a tre vie c'è un componente molto più critico di prima che il crossover che a questo punto sarà obbligato a tagliare la banda audio in tre parti non in due come era prima e anzi questo crossover sarà complicato da altri accessori e altri componenti atti a fare in modo di linearizzare il comportamento di tre altoparlanti per rendere i più possimi e omogenei fra di loro e non diversi quindi la presenza di un crossover più complicato è sicuramente un punto a sfavore nel caso di altoparlanti a tre vie dei crossover abbiamo già parlato in un altro video quindi non ricomincio a raccontare le problematiche relative ai crossover sappiate che in ogni caso pensate questo il nostro segnale già amplificato che stiamo così attenti a portare dall'amplificatore verso le casse con dei cavi molto particolari di sezione eccetera eccetera una volta giunto nel crossover deve passare attraverso una serie di bobine condensatori resistenze piste elettriche che sono tutt'altro che fatte di quel magnifico rame oxygen free che ci aspetti che utilizziamo nei cavi di potenza ma spesso il nostro segnale di potenza si trova costretto a passare addirittura attraverso delle piccolissime piste in rame stampato quando ci va proprio male ma quello del crossover non è l'unico problema che ha nel diffusore a tre vie il suono che della sorgente puntiforme era così favorito dal fatto di arrivare da un punto solo in un diffusore a tre vie ci arriva alle orecchie non più da uno e neanche da due da tre che non solo arriveranno sfasati al nostro orecchio arrivando da tre punti diversi ma rimbalzeranno sulle nostre pareti in tre maniere diverse voi sapete che il suono che ascoltiamo quando ascoltiamo l'impianto non è solo in minima parte dovuto al suono diretto c'è una grandissima parte che arriva dall'ambiente intorno ai tant'è che ogni cassa ha un suo suono a seconda della stanza nel quale la posizioniamo beh se questa parte di suono che arriva dalla stanza arrivasse da un punto solo rimbalzerebbe sulle pareti sull'ambiente solo in una maniera se arriva da due o peggio ancora da tre punti separati le interazioni con l'ambiente saranno complicate per tre quindi ritorno ancora in pool position un diffusore a due vie dove solo due altoparlanti sono destinate alla riproduzione di tutta la banda audio tutto da vedere in un wooferino piccolo medio grosso che sia le basse frequenze sono emesse dalla vibrazione di tutto l'autoparlante che si muove come un pistone rigido creando onde di pressione che arrivano al nostro orecchio le basse frequenze mentre le frequenze medie medio alte a lui deputate cioè che il woofer è destinato ad emettere non vengono emesse da tutta la superficie del cono ma solo dalla parte centrale se un cono deve muoversi 4000 volte al secondo cioè fare i 4000 hertz non riuscirà a muoversi 4000 volte al secondo con tutto il suo equipaggiamento mobile sarà solo la parte centrale del woofer che non è assolutamente infinitamente rigido sarà solo la parte centrale dicevamo a muoversi per produrre le frequenze medie medio alte a lui deputate con una grossa gravante cioè il woofer sappiamo che contemporaneamente sarà obbligato di produrre i 20 hertz o di 30 hertz quindi un movimento lento avanti indietro nello spazio e contemporaneamente deve produrre i 3000 e 4000 hertz muovendo solamente il centro questo movimento centrale di 3400 hertz non avviene partendo da un da un punto zero ma appunto sarà obbligato muoversi avanti e indietro solidamente al movimento dei 20 hertz voi sapete che cos'è l'effetto doppler cioè l'effetto doppler è quell'effetto per cui quando sentiamo una macchina che si avvicina per strada sentiamo un rumore tipo questo è l'effetto doppler che ci dice che una frequenza mentre in avvicinamento verso di noi da percepiamo come più alta mentre in allontanamento tra di noi la percepiamo più bassa beh il woofer mentre si muove lentamente per fare le basse frequenze se contemporaneamente alla parte centrale che si muove per riprodurre le frequenze medio basse obbligherà queste frequenze ad allontanarsi avvicinarsi a noi man mano che viene mosso dalle frequenze più basse creando un aumento una diminuzione della frequenza che è una delle fonti di distorsione è una delle fonti non fedeltà assoluta nella riproduzione audio certo in un diffusore a tre vie questa questione è ridotta perché le frequenze medie vengono riprodotte da un altoparlante specificatamente fatto per le medie frequenze frequenze medie che quindi non subiranno più a doppie emissioni da metà dal twitter ma dal woofer ma saranno tutte emesse da uno specializzato mid range e avremo solo parzialmente quel problema di effetto doppler dovuto alle frequenze medie riprodotte da un woofer che si sta muovendo in bassa frequenza ma chi è che ha deciso che il band audio debba essere divisa in due parti bassi e alti quindi in due vie o bassi medi alti quindi un tre vie e in medio bassi e medio alti dove li mettiamo volete dire che in commercio nello sterminato numero di dispositivi in commercio di altoparlante commercio non c'è un altoparlante che sia specializzato nelle frequenze medio basse e nelle frequenze medio alte cioè in quell'intermezzo tra il woofer e il medio e tra il medio e il twitter e allora perché non parliamo di un altoparlante a cinque vie bassi medio bassi medi medio alti e alti dovrebbe avere ancora più vantaggi del tre vie rispetto al due vie ma a questo punto se cinque bande sono meglio di tre sette bande saranno meglio di cinque e siccome le frequenze audio vanno da 20 a 20 mila hertz perché non fare un diffusore con 20 mila altoparlanti uno specializzato per ogni hertz delle frequenze da 20 a 20 mila e quindi qual è la risposta alla domanda è meglio diffusore due vie o meglio diffusore a tre vie vi vorrei fare io una domanda adesso domenica vorrei farmi un giro in automobile e non so quale automobile comprare sono inciso tra una ferrari e una ross royce non vi ho detto che domenica non so bene che gira un automobile fare vorrei andare da qui fino a trapani seguendo un percorso per vie statali oppure sono indeciso se andare invece a monza girare in autodromo qual è l'automobile migliore che potrei comprare la ferrari o la ross royce beh forse qualcuno di voi ha risposto dipende ecco appunto anche in questo caso non è la risposta che è sbagliata e la domanda che forse è inopportuna a presto